Ebbene carissimi amici, ben ritrovati come sempre sul mio canale YouTube. Una buona giornata a tutti voi. Oggi giornata d'estrazione 29 di dicembre, venerdì. E vediamo cosa è successo nell'estrazione di ieri, di giovedì 28 dicembre. Bene, come vedete e notate il 90 continua a sortire. Come vi avevo annunciato che il mese di dicembre sarebbe stato un mese importante. E secondo me è un 90 che ci porteranno più fino all'ultimissima estrazione, quella di sabato 30. Vedremo cosa succederà. Vi ricordo che abbiamo in gioco la favolosa spia 53 di Torino del 27 dicembre. Che porta un bellissimo 90 sulla ruota di Genova. State molto attenti a questo metodo. Perché avete notato come le mie spie vanno sempre e costantemente a pagare. E proprio nelle ultime estrazioni abbiamo ottenuto diverse vince di Ambo Secco con le mie spie. Di cui l'ultima è proprio il 3,90 sulla ruota di Firenze. Che ve lo faccio rivedere. Sabato 23, grande vincita di Natale. Ebbene, 5 ambi e unica ruota. Metodo che rimane sempre vostro. Impegno di giocata chiaramente con la modalità vincita venuta. E potete contattarmi per informazioni via Whatsapp 348 75 47 715. Come al solito. Quindi non perdete i miei metodi spia. Mi raccomando. Vedo che il video è molto visualizzato. E mi raccomando a contattarvi. Perché poi non vorrei che arrivano poi ancora gli ambi secchi. E tanti di voi li vanno a perdere. Ed è un peccato. Tenete conto che vi rimane il metodo. Quindi questo è un grande vantaggio. E chi ha preso i miei metodi spia ha continuato a vincere anche con le altre condizioni. Perché quando poi per esempio la spia 53 uscirà di nuovo su Torino. Voi potrete andare a giocare per voi stessi. Il metodo. E tanti di voi hanno vinto ambi secchi anche con le condizioni successive. Quindi questo è un grande vantaggio che vi do. Che vi lascio il metodo complito. Quindi mi raccomando a non perderli. Genova l'estrazione di ieri porta un ambo di cadenza a distanza a 10 72 82. E questo è un bel segnale per il 90. E con questo 3 in terza posizione. Quindi attenzione 72 presente anche su Milano. Guardate il triangolo di cadenza 2 72 42 72. Con 72 figura 9 sia a Genova che Milano in diagonale. Milano rimane ancora molto forte per il 90 quindi attenzione. Ambo di cadenza a 10 di cadenza a distanza a 10 anche su Milano 78 e 88. Con la figura 9 in terza 72. E questo doppio ambo in cadenza 2. Guardate che bella questa formazione. 82 72 42 72. Si vanno ad intersecare le due cadenze proprio. 42 72 seconda posizione. Isotopia Genova Milano. Quindi attenzione perché qui c'è un bel 90 molto caldo. Ruota di Bari. Attenzione anche qui. Ambo di cadenza a distanza a 10 64 54. Forte anche Bari. E attenzione. Con il 18 figura 9 in terza posizione. Due ottimi segnalatori del 90 20 e 56. Quindi Bari Cagliari rimangono ancora ruote forti. Bari chi vuole puntare un po' meglio. La ruota di Firenze potrebbe andare in ripetizione. Spia 20 del 90. Cadenza a 9 in terza. Poi vediamo cosa abbiamo ancora. Doppio e figura 9 tra la ruota di Napoli. 63 27 anche qui di somma 90. Molto bello anche qui. Poi abbiamo... Allora intanto la scossa estrazione avevamo la distanza a 1 su Genova che conferma il 90 69 70. Non ve l'ho fatto vedere anche l'1 eh. Quindi attenzione. Ruota di Palermo distanza a 1 anche qui 14 15. Distanza a 1 anche su Roma 77 78 con il 2 segnalatori. Quindi voi sapete che il 90 ormai va alla grande ripetizione. Torino 85 segnalatore con 9 59 cadenza 9 unita. Ambo di cadenza. Ambo di metra indice unito Venezia 31 36 col 36 figura 9. E il 27 anche figura 9. E Ambo di cadenza a 2 anche sulla nazionale 32 82. Quindi cari amici un altro quadra estrazionale che ci dà degli ottimi segnali. Vedremo cosa succederà con questo 90. Mi raccomando al mio 90 segreto. Genova Cagliari e Palermo. Già ne abbiamo vinti diversi. Vediamo se arriva l'Ambo secco. Due Ambi su tre ruote modalità vincita venuta. Quindi pagamento solo a vincita di Ambo secco. Stessa cosa per Ambo sotto controllo. Sono due Ambi su due ruote. Anche qui grande metodo. Questo mese ci ha pagato l'83. Vediamo se arriva l'Ambo entro la prima estrazione di gennaio compresa. Quindi vi consiglio questi metodi. Mi metto di accolpo. Mi raccomando. Perché sono molto forti. Per Ambo secco. Abbiamo ottenuto belle soddisfazioni anche questo mese. E i miei metodi mensili che vanno sempre alla grande. L'estrazione di ieri. Ambata fatata. Il mio primissimo metodo presentato. Questo ha testimonianza che i miei metodi funzionano nel tempo. Senza scadenza. 13 call e rima posizione. E ancora il metodo incrocio vincente. Con il 20 sulla ruota di Bari. Dopo che ha pagato il 20 sulla ruota di Roma. Proprio l'estrazione di sabato. E poi ancora il 20 l'estrazione di mercoledì. Guardate che metodo. Tre vincite consecutive. 20 a Roma. 20 a Bari il 27. 20 a Bari il 28. Questo vi fa capire come i numeri non hanno memoria. E che ormai le ripetizioni sono praticamente frequentissime. Quindi si può vincere tranquillamente con le ripetizioni di numeri. Quando vado a confermarvi dei numeri. E perché poi ci sono questi fenomeni. Quindi cari amici. Ci risentiamo questa sera con l'estrazione di venerdì 29. Vedremo cosa andrà a succedere sul quadro estrazionale. Mi raccomando sempre costanza nel gioco e fiducia nelle previsioni. Perché soltanto con la costanza e la fiducia. Si va a vincere al gioco dell'otto. Mi raccomando. Per adesso un saluto a tutti. Mister Sbancolotto.